Prima telefonata del Presidente degli Stati Uniti Biden al cinese Xi Jinping. Scintille su Hong Kong, Taiwan e diritti umani. In diretta il corrispondente da New York, Claudio Pagliara. Sì, il Presidente Joe Biden mette in chiaro che intende mantenere alta la pressione sul colosso asiatico. Dice all'omologo Xi Jinping che c'è disaccordo sui diritti umani a Hong Kong nello Xinjiang. Contesta le pressioni militari sull'isola di Taiwan e i rapporti iniqui economici. Mentre Xi Jinping tende a sottolineare l'importanza per entrambi i paesi di avere relazioni bilaterali più distese. Intanto prosegue al congresso americano il processo a Donald Trump. Vi diamo il servizio.